L'associazione Stella Maris ha dato vita allo sportello Universo Donna che ospiteremo qui nel nostro sportello del cittadino. Ne parliamo con Gianna Cavallo, responsabile del settore attività sociali e pari opportunità dell'associazione. Perché è nato questo sportello? Questo sportello nasce dopo un'attenta riflessione. Io mi occupo di pari opportunità ormai dal 2005, quindi sono dieci anni e nel corso di tutti questi anni ci siamo resi conto che ci sono delle gravi lacune proprio delle istituzioni. Devo ricordare che l'amministrazione comunale di Taranto non ha ancora istituito la commissione di pari opportunità. L'ha semplicemente istituita nel primo mandato del sindaco Stefano, nel secondo mandato non ci ha pensato minimamente. Le stanze però del territorio sono tante e lo si vede anche da come lavorano i vari centri antiviolenza che sono gestiti da associazioni che fanno volontariato sul campo. Molto anche viene fatto dalla polizia, dai carabinieri, dalle forze dell'ordine che sono presenti sul territorio. La provincia dovrebbe coordinare tutte queste associazioni che comunque si occupano di questa grave piaga sociale, che è quella della violenza sulle donne, e che è uno dei filoni nei quali si interesserà lo sportello universo donna, che è uno sportello rivolto alla donna a 360 gradi. Sarà occasione di incontrare e abbracciare tutte quelle donne che avranno necessità di tendere la mano per cercare aiuto e noi saremo lì pronte e disponibili ad allargare queste braccia e abbracciarle calorosamente per poterle guidare e aiutarle in un percorso di recupero.